Gianni Rodari, anno nuovo. Indovina, mi indovino, tu che leggi nel destino, l'anno nuovo come sarà? Bello, brutto o metà e metà? Trovo stampato nei miei libroni che avrà di certo quattro stagioni, dodici mesi, ciascuno al suo posto, un carnivale e un ferragosto. E il giorno dopo del lunedì sarà sempre un martedì. Di più per ora, scritto non trovo nel destino dell'anno nuovo. Per il resto, anche quest'anno, sarà come gli uomini lo faranno.